tanti auguri matilde il corpo basso da noi vai Isa vai Penny fammi vedere che sto a fare il video che è sta roba arriva qua passo corto e arrivi lì ora lo facciamo rivedere mettiamo le mani qua vieni 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 pronti? no pronto un altro uno uno due tre gioca bravi ciao 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 ciao